Sì, buongiorno, vi presento la scuola di alta formazione in gestione dei rifiuti che anche quest'anno abbiamo riproposto a Ravenna insieme a partner Lab&Lab e co-ricerche coadiuvati da ERA, COMBAT e ambiente diritto con la collaborazione dell'avvocato Portolotti. La scuola fondamentalmente riprende tutti i punti della filiera dei rifiuti, quindi a partire dal produttore fino al destino finale e analizza in sei moduli interconnessi fra di loro tutte quelle che sono le problematiche tecniche, giuridiche e gestionali del mondo dei rifiuti. Siamo contenti di aver riproposto questa manifestazione dopo i successi dell'anno scorso e i successi che abbiamo riscontrato a Ecomondo durante i rifiuti del novembre e anche quest'anno abbiamo un ottimo successo di partecipanti che insomma vengono dal mondo degli enti pubblici, dal mondo imprenditoriale e anche avendo aperto questo tipo di canale informativo verso l'università ma anche dal mondo delle accademie, quindi ingegneria e facoltà scientifiche. Grazie. 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 Grazie.